Lo scorso maggio Mercedes Schengen è arrivata all'isola dei famosi dichiarando da subito un interesse per Edoardo Tavassi. Dopo pochi giorni però il fratello di Gwendalina ha messo in dubbio la cotta della naufraga, ma con il passare delle settimane i due sono tornati in buoni rapporti e lui ha iniziato a fidarsi. Le cose sono cambiate nuovamente dopo la fine del reality, Edoardo la scorsa settimana ha dichiarato tra Stefania e Mercedes preferisco senza dubbio e Stefania. Con lei andrei volentieri a cena fuori. Si è mostrata per quella che è e non si è nascosta. Mercedes invece ha giocato tanto. A telecamere spente mi capiva e appoggiava. Poi quanto i cameraman tornavano faceva la vittima per l'attenzione del pubblico. Queste persone non mi piacciono e non posso preferirle a nessuno, Mercedes Schengen, ho sentito Edoardo Tavassi e abbiamo chiarito. La figlia di Eva Enger intervistata da Superguida TV ha rivelato di aver parlato privatamente con Edoardo. Mercedes Schengen ha anche detto che presto incontrerà l'amico speciale. Il mio interesse per lui era reale non ho mai finto nel programma. Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto. Avrei voluto vedere sul podio anche Edoardo. Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto. Il momento più brutto sull'isola? La seconda settimana in cui mi sono ritrovata contro Edoardo, Gwendalina e Nicolà e poi sono uscita ritrovandomi. E' stato difficile e mi sono sentita abbattuta ma poi un giorno mi sono svegliata e mi sono ripromessa di farcela. Non volevo che le persone che mi volevano bene e facevano il tifo per me da casa mi vedessero in quello stato. Ho avuto tempo per riprendermi e poi sono tornata più forte di prima.